è ora il momento di angelo fierro senior sales manager di on office italia ciao 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 angelo allora on office gestionale un nuovo gestionale che arriva dalla germania che sbarca nel mercato italiano due anni fa un anno e mezzo agli albori della pandemia ok come come hai trovato la platea degli agenti immobiliari in italia beh devo dire che nel 2020 quando siamo arrivati che appunto come detto era proprio qualche mese prima di tutto quello che abbiamo dovuto vivere forse nel male c'è stato anche un bene in quanto è stato proprio un momento in cui gli agenti immobiliari si sono trovati costretti a vivere in una realtà completamente nuova sconosciuta magari lo saprai meglio di me quello che hai dovuto passare nel caso ci ha aiutato essere presenti avrebbe tutte le persone che magari chiuse in casa non sapevano come come gestire la situazione siamo andati in supporto al loro lavoro grazie anche appunto all'esperienza ventennale che abbiamo nel nel settore al know how che ci portiamo dietro dai dai paesi europei in cui siamo presenti e on office gestionale crm cosa cosa vi differentia nelle funzionalità di questo software innanzitutto credo sia necessario fare una piccola distinzione tra i due termini gestionale crm gestionale come suggerisce appunto il termine aiuta l'agente immobiliare nella gestione del lavoro quotidiano quindi nella gestione di quello che può essere anche il proprio portafoglio immobiliare portafoglio clienti la pubblicazione la gestione delle agenda mentre crm è un acronimo un acronimo e sta per customer relationship management ovvero gestione del rapporto del cliente anche in questo caso si parla di gestione ma più che del del lavoro si parla proprio della cura del cliente che è quella parte importante che poi da da quel valore aggiunto all'agenzia immobiliare la gente stesso per per ragionare sempre sui termini quindi gestionale aiuta ad organizzare il lavoro di un agente immobiliare mentre il crm va più visto come uno strumento di marketing capace di poter aiutare la gente a coltivare a fidelizzare il rapporto con il cliente e on office in questo in questo per in questi termini com'è che supporta l'agente immobiliare nel sviluppare il rapporto con i propri clienti beh oggi si è parlato tanto del dell'importanza del rapporto con il cliente si parla anche spesso e ne parlo sempre con i miei clienti di quanto sia importante si parla di mercato immobiliare di acquisizione per un agente immobiliare è un tatuaggio sulla pelle a volte però a volte viene visto un po come un compartimento stagno quindi l'acquisizione sembra essere diversa da quello che poi è la gestione del cliente mentre invece sono due azioni strettamente correlate poter delegare a un gestionale crm a un software tutte quelle attività che comportano del tempo da parte del dell'agente immobiliare ma che poi servono a coltivare il rapporto con il cliente è importante per migliorare il proprio business la propria agenzia e noi lo facciamo grazie a quello che poi è il punto di forza che ci caratterizza che sono le nostre automazioni ovvero appunto la capacità di far diventare un software un collaboratore virtuale attivo 24 ore su 24 7 giorni su 7 se posso fare un esempio molto semplice ipotizziamo che un vostro un cliente di un agente immobiliare voglia contattarvi un venditore per avere delle informazioni ci sarà sicuramente quel cliente che contatta la gente e non riceve risposta perché magari l'agente in quel giorno è operato magari un weekend deve aspettare il lunedì per poter evadere tutte quelle che sono le email e tutte quante le richieste che ha ricevuto ipotizziamo che lo stesso cliente invece abbia immediatamente un riscontro da parte dell'agente immobiliare magari attraverso una risposta personalizzata dove viene data la possibilità di avere le informazioni sulla gente che prenderà in carico alla richiesta o ancora dare la possibilità al cliente di dare qualche informazione in più sulle esigenze che ha in quel momento questo è proprio quel valore aggiunto che caratterizza il lavoro dell'agente immobiliare gli permette di distinguersi un pochettino in questo momento storico ne abbiamo ne parlo tutti i giorni io sono il primo cliente forse siamo tutti clienti viviamo in un momento storico del tutto e subito ne ha parlato anche prima qualche relatore sempre seduto a questo sgabello siamo abituati a cliccare un tasto e avere tutto immediatamente io compro un biglietto e ce l'ho sulla mail compro un pacco e sono sicuro di averlo domani davanti alla porta di casa e non possiamo escludere i clienti degli agenti del mercato immobiliare da questa dinamica e quindi un cliente che riceve immediatamente un riscontro si sente considerato non ha paura che la richiesta sia stata persa magari non se neanche stata mai inviata e questo è un valore aggiunto non solo per il cliente che si vede tra virgolette coccolato in quello che è l'inizio di un approccio con un agente immobiliare ma anche per l'agente immobiliare stesso che magari tornato in agenzia si ritrova la richiesta già risposta si ritrova un contatto magari già inserito all'interno del suo database schedato in un dettaglio completo di tutte quelle che sono state le attività fino a poter ricontattare il cliente avendo magari già tutte le informazioni necessarie a convertire quell'ipotetico interessato in un vero e proprio cliente. Sì dicevamo prima in un precedente intervento appunto che è una problematica degli agenti immobiliari è stato fatto un sondaggio un test inviando delle richieste specifiche per degli immobili in varie regioni d'italia e purtroppo il tasso di risposta di queste richieste è stato molto basso quindi l'agente immobiliare non è una giustificazione ma non è in grado di gestire una mole di lavoro contemporaneamente magari senza impiegata senza collaboratori on office va a porre rimedio a questa a questa mancanza. Certo se possiamo parlare di numeri lo studio forse citi lo studio recente di vorrei.it dove è stato dimostrato che un acquirente scusate un venditore che ha fatto richiesta su un range vasto di agenzie in italia per il 47 per cento delle richieste non è stata inviata una risposta cioè nel momento in cui un venditore che è il bene essenziale. No parliamo proprio di informazioni su venditori. Ah per vendere. Sì sì persone che contattano un'agenzia dicendo voglio vendere il mio immobile 47 per cento e quasi la metà degli agenti immobiliari non ha dato riscontro a questo tipo di risposta per quello forse magari citavamo studi diversi però i numeri restano più o meno sempre quelli se anche quando una un venditore ci contatta che voglio dire è la base del lavoro dell'agente immobiliare noi non gli diamo riscontro stiamo già un passo indietro rispetto a tutto il resto. Chiaro è chiaro sì lo studio che citavo io invece parlava dei clienti acquirenti che scrivevano per degli immobili con una richiesta di informazioni e non vediva data risposta ma eravamo sempre circa il 40 su quell'altro parte. Esatto esatto quindi purtroppo il tasso il tasso di non di non apertura è molto alto e non è una bella pubblicità purtroppo per noi agenti immobiliari. Detto questo qual è l'identikit del cliente tipo di on office cioè voi con che tipologia di agente lavorate o qualsiasi struttura può essere? Ma se parliamo dell'utente tipo di on office è un agente immobiliare che ha voglia di migliorare l'operatività della sua agenzia in modo innovativo. Se parliamo di chi utilizza on office e chi ha voglia di andare a permettere di offrire un maggior numero di servizi ai propri clienti senza per questo dover aumentare quella che è l'operatività effettiva che svolge in agenzia. Il vantaggio di un office è la personalizzazione completa. Questo vuol dire che noi andiamo a dare un giusto compromesso tra un software tailor made quindi cucito ad hoc sulle esigenze magari di una singola agenzia alla possibilità di ammortizzare quei costi che comporta un software dove ci dietro uno sviluppo importante magari per un singolo agente immobiliare anche piccolo non è concepibile in quanto grazie appunto all'esperienza ventennale quasi tutte le esigenze degli agenti immobiliari sono già incluse all'interno del nostro software. Il vantaggio è che collaboriamo con tutti i tipi di agenti immobiliari dai grandi gruppi che vogliono utilizzare il nostro software per strutturare il proprio lavoro per dare una un'operatività concreta magari a tutti i collaboratori e quindi dettare uno standard qualitativo alto all'interno della propria agenzia anche il singolo titolare di agenzia che magari ha bisogno invece di un supporto effettivo che proceda a lavorare quando lui è impegnato in giro per mille visite. Vantaggi essenziali se posso citarne qualcuno anche semplicemente la possibilità in piena mobilità di continuare ad operare grazie alla nostra applicazione. Noi oramai da oltre cinque anni abbiamo un'applicazione sviluppata sia per dispositivi Android che Apple che permette all'agente immobiliare di essere operativo anche in mobilità quindi ipotizziamo anche solo poter rispondere a una richiesta oppure inviare una brochure tra un appuntamento e un altro mentre devo correre da una parte all'altra della città senza dover per forza tornare in agenzia e laddove non riusciamo a diciamo anzi dove l'obiettivo è snellire totalmente il lavoro è importante anche andarlo ad automatizzare quindi andare a far sì che non ci sia proprio più bisogno di andare a svolgere determinate attività perché sarà il software svolgere per noi. Al di là della gestione con il rapporto diciamo diretto con la clientela so che ci sono anche delle agenzie che utilizzano il vostro gestionale per la gestione interna dei collaboratori quindi non rivolto verso l'esterno ma proprio per l'organizzazione e la gestione dei collaboratori interno. Come funziona questa cosa? Senza andare troppo lontano rimango in casa noi di Onofi siamo i primi utilizzatori del nostro gestionale noi utilizziamo il nostro CRM come vero e proprio software interno per andare anche a supportarci quindi supportiamo qualsiasi tipo di processo dal recruiting delle nuove risorse alla formazione alla gestione di tutti quanti i nostri reparti e questo è quello che poi passiamo il know how che noi passiamo ai nostri clienti per permettere di andare a strutturare esattamente il lavoro all'interno di un'agenzia quindi poter andare a monitorare le risorse poter dare degli obiettivi e seguirli passo passo così da capire anche spesso cosa che a volte manca dove avviene il collo di bottiglia il tipico blocco per il quale non riusciamo a capire perché non performiamo perfetto attraverso delle statistiche automatiche attraverso l'analisi automatica che viene fatta su tutte quelle che sono le azioni che i nostri collaboratori svolgono all'interno della dell'attività riusciamo ad andare a capire dove poter lavorare quindi concentrare i nostri sforzi direttamente su quel punto senza perderci magari in attività che poi non fruttano e non migliorano l'operatività dell'agenzia stessa chiaro lavorare con un gestionale che crea delle automazioni quale implica comunque una certa progettualità nel senso che bisogna sedersi a tavolino prima di iniziare a lavorare sul gestionale e decidere bene sappiamo che questo è quello che vogliamo ottenere dal cliente e deve passare attraverso questi processi come giustamente voli chiamare che tipo di supporto date voi l'agente immobiliare in questa fase beh l'agente immobiliare che inizia a lavorare con un office viene seguito dal primo momento che che apre il nostro software sul computer e questo forse è il punto principale il contatto diretto con un team che non solo forma gli agenti immobiliari in utilizzo del nostro software ma li accompagna e cerca di capire come quelle che sono i loro obiettivi possano diventare dei processi automatizzati all'interno del gestionale spesso abbiamo clienti che partono con dei disegni creano proprio dei veri e propri delle mappe concettuali all'interno di un foglio ce li inviano da poter così lavorare e mettere all'interno di un software c'è chi semplicemente grazie a una chiacchierata spiega che qual è l'obiettivo che vuole raggiungere ha a disposizione un team di supporto sempre presente che va ad accompagnarlo nel processo dico sempre che tutte le strade portano a Roma non ce n'è mai una corretta quindi a volte magari quello che un un agente immobiliare vuole effettuare con noi per lui deve avere una strada noi cerchiamo di fargli capire che si arriva allo stesso punto adattandola a quello che poi è il nostro software per quanto riguarda invece il mercato immobiliare italiano quali sono le resistenze che trovi più spesso quando ti approcci con le agenzie immobiliari nell'adozione di un gestionale un sistema di processi forse ritocchiamo un po il punto che abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata spesso sembra che l'acquisizione per gli agenti immobiliari sia un compartimento stagno quindi a volte trovo della reticenza nel dare importanza a tutti quei processi che poi vanno a prendersi cura del cliente avendo un passato nella customer care diciamo che ho sempre dato grossa importanza a poi quello che è il diciamo il percorso del cliente all'interno di un di un'agenzia come può essere di qualsiasi altro servizio questa forse questa è la parte che su cui mi soffermo sempre di più e su cui cerco anche di fare un ragionamento ad alta voce con chi si confronta con noi è proprio che spesso il cliente viene visto come un mero passami il termine un oggetto a cui faccio vedere una casa magari e se non gli piace ok avanti il prossimo idem per il venditore mi dai un incarico io cerco di farti vendere la casa il prima possibile se non va è un problema tuo e finisce lì invece andare anche ad educare forse il mercato immobiliare in questo momento spiegando che l'attenzione al cliente sia esso acquirente o venditore sta alla base di quella che poi è la produttività e successo dell'agenzia il passaparola che forse una volta si usava molto di più una volta si andava dai dei clienti con il portafoglio con l'elenco delle persone guarda questo è il mio portafoglio clienti quindi mi dai la tua casa sicuramente qualcuno lo troviamo forse si fa un pelino poco adesso invece noi quello che vogliamo proprio che almeno spero ogni tanto di far passare come messaggio è che il cliente qui sono io a volte io compro casa come tutti gli altri si vuole sentire coccolato e vuole essere informato e anche perché questo me lo insegnate voi agenti immobiliari un acquirente oggi è un venditore domani se si è trovato bene oggi sicuramente tornato domani ecco il fatto che comunque stia prendendo piede insomma il vostro il vostro software il vostro servizio significa anche che c'è in atto un cambiamento da parte degli agenti immobiliari nella gestione dei della clientela e dal proprio pacchetto clienti ecco quello sicuramente si sono d'accordo e un'ultima breve domanda tra i clienti che voi avete acquisito quindi che utilizzano il vostro portale quindi che hanno già questa mente portale perdono gestionale e che hanno già una mentalità cliente centrica in quanti utilizzano al cento per cento tra virgolette i processi di comunicazione di gestione o della clientela ti rispondo la maggior parte ma per il semplice fatto che teniamo a effettuare periodici follow up dei nostri clienti per aiutarli anche a capire laddove sia necessario quando manca l'attivazione di qualche processo che noi crediamo poter essere utile ai fini lavorativi e magari il cliente non ha considerato magari non conosce perché comunque puoi immaginare che un software altamente personalizzabile al 100 per cento comporta la possibilità di creare processi ipoteticamente infiniti quindi quello che è un processo correttissimo è utile per un'agenzia magari non lo è per l'altra però si può partire da quella che poi un'idea che noi tendiamo sempre a dare al cliente per andare a lavorare sull'esigenza specifica della persona quindi l'unico limite è la fantasia sì sì io dico sempre i processi per me sono un vaso di pandora una volta che li apriamo bisogna fare attenzione non si sa cosa ne è grazie angelo del tuo contributo grazie mille 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 grazie mille